Il ministro Giorgetti ha visto buoni segnali di riapertura delle banche per la gestione del credito, di banche e poste. L'ha dichiarato stamattina in un articolo sul Corriere. Ci crediamo, ci crediamo, aspettiamo, vediamo. Stiamo aspettando oramai da più di un anno che banche e poste riaprano il mercato della gestione del credito. Chissà che non accada proprio adesso, quando ci sono in ballo tutte queste modifiche al decreto 11 e alla cessione del credito, post 17, pre, post e tutte le questioni del super bonus, le proroghe, delle quali ti parlerò poi nei miei contenuti su YouTube, principalmente lì e nel sito danilatorresi.it